Aprodo all'Iros Festival, che se tu nomini evidentemente sai che noi siamo stati lì a improvvisare con lei, comunque dopo lo racconto questo, è arrivata un po' prima del festival stesso, direi due o tre mesi prima. Io l'ho chiamata proprio, noi avevamo questa canzone appunto Laica Preghiera, che io desideravo diventasse un duetto e dopo aver immaginato che avrebbe potuto essere a venire a darci la sua voce, lentamente tutti i nostri desideri, le nostre opinioni hanno, insomma, proprio c'è stata una convergenza nei confronti di Elisa. Intanto perché lei è una reale ammiratrice dei Marlene Kunze, lo è da tempo in memore, io me la ricordo sotto i palchi nostri una ventina di anni fa, anche di più in Friuli, c'eravamo anche scambiati qualche opinione, me la ricordo molto bene, e lei ha sempre apprezzato i Marlene, ma è vero che lei apprezza la musica di qualità, lei non è una persona, diciamo, sfacciatamente e ottusamente mainstream, chiusa con le orecchie all'ascolto delle cose belle, in realtà lei è molto attiva, ascolta un sacco di cose raccomandabili, e quindi, diciamo, anche da questo punto di vista era logico rivolgersi a lei. L'ho chiamata e lei si è rivelata immediatamente molto molto contenta, mi ha anche detto, ma noi stiamo facendo veramente una cosa con tanti tratti in comune, anche io sono realmente, e genuinamente impegnata sul tema del riscaldamento climatico, quest'estate farò tutta una serie di cose, ed è lì che mi ha nominato l'Iros Festival di Verona, noi avevamo un avvago sentore che lei se ne occupava, quindi lì ho capito che lei era realmente la direttrice autistica, e dopo aver combinato, dopo aver ragionato su questo duetto con noi, ci siamo ritrovati anche a essere suoi ospiti, proprio all'Iros Festival, con un talk che abbiamo portato avanti io e Luca Lagas, e questo magnifico momento sul palco di pure improvvisazione con lei, che poi abbiamo anche ripetuto alla Mola Antonegliana, cioè lei letteralmente è salita sul palco con noi, a improvvisare con noi, a Verona è stata la prima, all'Iros Festival, non ha voluto assolutamente che noi pianificassimo nulla, e questo la dice lunga sulle qualità della sua preparazione, se vogliamo parlare di preparazione, cioè lei è un talento reale, senza nessun timore, ha detto no, no, io non voglio sapere nulla, cioè saliamo sul palco e improvvisiamo a tutti gli effetti, e l'ha fatto, l'ha fatto con noi, inserendosi nelle dinamiche di una band che sta insieme da più di 30 anni, quindi è stata coraggiosissima, o semplicemente consapevole dei suoi mezzi. Questa cosa poi si è ripetuta alla Mola Antonegliana e ci auguriamo di poterla ripetere ancora, sarebbe veramente una grande opportunità poter portare in giro questo spettacolo fatto di musica, che fluisce liberamente e che non è mai uguale a se stessa, evento dopo evento. Questo Tourney Club è un tour dove ci siamo decisi a non ancora smascherare il potenziale vero insito in ciò che si trasformerà, il tour di Karl Maclima, che accadrà verosimilmente tra, diciamo, da fine febbraio più o meno in avanti del prossimo anno, dove il nostro scopo è proprio quello di andare a suonare nei teatri. Questo disco nei teatri funzionerà meglio perché ha tutte le caratteristiche per essere accolto in una situazione così sacra di ascolto intimo e raccolto. Quindi questo tour qua è ancora un tour dove i Marlene fanno i Marlene con molti ingredienti rock e inseriscono qualche pezzo del disco nuovo. E' evidente che questo disco deve essere assimilato e fra un anno la gente comincerà a volere in scaletta molti pezzi di Karl Maclima. Queste sono dinamiche standard, tipiche di sempre. In più però, ripeto, siccome questo disco per noi è nel solco di una demarcazione ben precisa perché c'è qualcosa di nuovo nell'aria e siamo determinati realmente ad andare in questa direzione, allora è opportuno che si strutturi poi un disco che questa volontà la manifesti nel miglior modo possibile. Quindi tour nei club rock alla Marlene con ingredienti nuovi del disco e tour nei teatri nella prossima stagione con una presenza più cospicua del nuovo sound dei Marlene. Questo chiaramente desidero sottolineare. Non dimenticatevi eventualmente di accompagnare anche nei vostri iscritti questa cosa. Non è un rinnegare il sound dei Marlene precedenti, ma è un modo che ho utilizzato per sottolineare il fatto che noi siamo consapevoli che vogliamo anche per illustrare nuovi territori, quelli che Karl Maclima ha cominciato a far sentire.